Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la situazione dei contagi da coronavirus in Molise perché c'è stata oggi un'impennata di casi, un'impennata record mai registrata dall'inizio dell'epidemia. In un solo giorno 49 nuovi positivi su 525 tamponi processati. Questi nuovi casi riguardano soprattutto la provincia di Isernia, ma vediamo i dettagli nel servizio di apertura di Giovanni Di Tota. Ora è la provincia di Isernia a registrare il picco da covid-19 con 35 nuovi casi sui 49 totali dell'ultimo bollettino diramato dall'ASREM. Un'impennata che segna anche il record di positivi in un solo giorno in Molise dall'inizio della pandemia. I casi nell'Isernino sono passati dai 29 della scorsa settimana ai 100 attuali. L'evento che ha rappresentato il focolaio più importante è un funerale che si è svolto a Castelpetroso. In paese ci sono 12 nuovi positivi. Molti anche i casi emersi dalle richieste dei tamponi inoltrate dai medici di base, una decina su 49. Ma vediamo il riepilogo nel dettaglio nel risultato dei 525 tamponi processati. 5 casi a Boiano appartenenti a Clasternoto, 2 a Termoli, 13 a Isernia dei quali 4 con tampone richiesto dai medici di medicina generale, 6 appartenenti a Clasternoti e 3 da contatti con Positivo. Un nuovo positivo a Vinchiaturo, tampone del medico, 1 a Pesche, Clasternoto, 2 a Forli del Sannio, contatto da positivo, 1 a Montenero di Bisaccia, Clasternoto, Clasternoti anche i 3 positivi di Santa Maria del Molise. Poi ci sono i 12 nuovi casi di Castelpetroso, 1 a Ferrazzano per un tampone richiesto dal medico, 1 a Fornelli rientrato da fuori regione, Clasternoto il positivo di Roccamandolfi, 2 nuovi a Venafro, uno del cluster degli emigrati, l'altro richiesto dal medico, così come per il positivo di Petacciato, Clasternoto a Montaquila, un nuovo positivo e un nuovo positivo rientrato dall'estero a Frosolone. Anche nel computo delle città, Isernia, con 24 casi, ha superato Campobasso, ferma a 23. Ora è il capoluogo di provincia a detenere il numero più elevato di positivi, 214 gli attualmente trattati e 10 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, tornato ad essere un vero avamposto nella lotta al Covid. Lasciamo momentaneamente il coronavirus e parliamo di una tragica fatalità che è costata la vita ad un uomo di 64 anni, morto schiacciato dal cancello di ferro della sua villetta sul quale stava effettuando dei lavori inutili i soccorsi. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata a Termoli, in via De Santis, il servizio è di Andrea Nasillo. Stava lavorando alla sistemazione del cancello della sua abitazione, nel giardino. Pare fosse intento a riparare il motorino che regola lo scorrimento della struttura di ferro, che improvvisamente ha ceduto e lo ha travolto, uccidendolo. Il tragico incidente si è verificato all'esterno di una villetta di via De Santis a Termoli nella tarda mattinata di oggi. La vittima è Savino Grieco, 64 anni. Il fratello che era nei paraggi gli ha prestato soccorso, ma la violenza dell'impatto e il peso del cancello non hanno lasciato scampo all'uomo, molto conosciuto in città e titolare di un'azienda di archiviazione digitale di documenti. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri della compagnia di Termoli, guidati dal comandante Alessandro Vergine. I militari hanno avviato accertamenti sul corpo dell'uomo e è stata eseguita l'ispezione cadaverica. Dolore e incredulità tra familiari e amici, una tragedia che ha sconvolto l'intero quartiere. Torniamo ora ad occuparci del tentato omicidio in banca a gamba tesa perché questa mattina in carcere a Campobasso c'è stata l'udienza di convalida per l'impiegato che ha accoltellato il vice direttore della filiare. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere al suo legale e ha detto di non ricordare quasi nulla dell'accaduto. In ospedale invece la vittima aveva ricostruito i drammatici attimi dell'aggressione. Nessuna lite e nessuna discussione, ma un vero e proprio raptus. Intanto, mentre la filiale della banca questa mattina ha riaperto al pubblico, è stato avviato l'iter per il licenziamento dell'aggressore. Sentiamo Enzo Luongo. Un vero e proprio raptus. Nessun litigio, nessuna discussione nei minuti precedenti l'aggressione. Così il vice direttore della banca di credito cooperativo di gamba tesa, aggredito a coltellate da un collega in ufficio giovedì scorso, ha ricostruito gli istanti immediatamente precedenti il tentato omicidio. Il funzionario si trova ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale Cardarelli. Non è mai stato in rianimazione, ma le sue condizioni sono sempre gravi e ancora in prognosi riservata. Ecco la ricostruzione dettagliata dell'accaduto. L'aggressore era impegnato in un'operazione di cassa quando ha chiesto aiuto ad un collega. Aveva bisogno di un chiarimento, poi ha detto che avrebbe chiesto quella stessa delucidazione direttamente al vice direttore. Una volta entrato nella stanza però è scattata l'aggressione. In pochi istanti è andato dietro la scrivania. Ha afferrato il funzionario alla testa, lo ha colpito alla gola a pare con un coltello. Non avrebbe usato dunque un oggetto dell'ufficio. L'arma usata, a quanto pare, non è stata ancora ritrovata. Stamattina intanto in carcere si è tenuta all'udienza di convalida. L'aggressore è apparso in stato confusionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere, è rimasto in silenzio. Anche al suo avvocato, Antonino Cerella, ha detto di non ricordare quasi nulla e non ha saputo nemmeno dire i motivi alla base dell'aggressione. La procura ha chiesto la conferma della detenzione in carcere, la difesa agli arresti domiciliari. Sempre stamattina, quattro giorni dopo l'episodio di sangue, la filiale di gamba tesa della banca ha riaperto al pubblico. I vertici dell'istituto si sono affidati ad un team di legali che assistono anche la vittima e sono state avviate le procedure per il licenziamento dell'aggressore. Ora la giudiziaria. Il 22 gennaio 2019, Donato Rubortone, 82 anni di Termoli, morì investito da una Toyota Yaris guidata da Bartolo D'Adderio davanti al centro commerciale Lo Scrigno a Termoli. Oggi, nella sentenza del processo di primo grado a Larino, D'Adderio è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione con il rito abbreviato. La procura invece aveva chiesto otto anni. L'avvocato Pino Sciarretta, legale di D'Adderio, annuncia a ricorso le tracce di cannabinoidi e cocaina trovate nel sangue del mio assistito dopo l'incidente, non provano in alcun modo, dice Sciarretta, che l'assunzione di droga sia stata una condizione dell'incidente stesso. Voltiamo pagina. Tantissime lacrime. Una folla incredula ha partecipato ai funerali della piccola Silvia, la ragazzina di 11 anni stroncata da un malore che l'ha colta mentre era in classe. Oggi l'ultimo saluto nella chiesa del Sacro Cuore, a Isernia, a Macchiagodena, paese d'origine della famiglia, lutto cittadino. C'era per noi Enzo Di Gaetano. Anche il tempo si è commosso per lei, neanche una goccia di pioggia è scesa dal cielo, insolitamente azzurro, nel pomeriggio d'addio a Silvia Pizzanelli. Un tibido sole d'ottobre ha riscaldato i cuori gelati di centinaia di ragazzi, compagni di scuola e di giochi dell'undicenne studentessa dell'Andrea Di Sernia, morta il 9 ottobre. Gelati, pietrificati da un evento imprevisto e assurdo, morire in una scuola a soli 11 anni. E i ragazzi dell'Andrea Di Sernia erano tutti lì, davanti al Sacro Cuore, ognuno di loro con un palloncino bianco in mano, per l'ultimo saluto alla loro piccola amica Silvia. C'erano anche i sindaci di Isernia e Macchiagodena, che hanno dichiarato entrambi il lutto cittadino. Con D'Apollonio, che ha pure annunciato nel suo intervento l'intenzione di intitolare a Silvia Pizzanelli la sala convegni dell'Andrea Di Sernia. La funzione religiosa è stata ufficiata da padre Nazario, parroco del Sacro Cuore. Distrutta la famiglia, con la mamma di Silvia, che l'ha ricordata così, tra le lacrime. Ricorda quanto sei nata, un sole splendente e semplice, vostro cuore che gioia. Infine l'ultimo saluto, con la bara bianca che va via, ma con la piccola Silvia che vola in cielo, insieme a quei palloncini bianchi lasciati volar via dai suoi compagni di scuola dell'Andrea Di Sernia. Una vicenda davvero tristissima. Torniamo a parlare ora di coronavirus e dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, deciso dal governo per tentare di frenare la curva del contagio in crescita in Italia, ma anche nella nostra regione, come abbiamo visto prima. Anna Maria Di Matteo è andata tra la gente per capire cosa ne pensa e si sta rispettando questo ulteriore inasprimento delle misure. Intanto domani alle 10.30 il presidente della regione, Donato Toma, terrà una conferenza stampa Palazzo Vitale per presentare la campagna vaccinale, è particolarmente utile, secondo gli esperti, in vista dell'influenza stagionale i cui sintomi possono essere confusi proprio con quelli del coronavirus. Vediamo il servizio. Indossare la mascherina dovrà rappresentare per tutti noi un gesto quotidiano come lo è indossare un abito, un'abitudine per proteggere noi stessi e soprattutto chi c'è vicino dal rischio di contagio da coronavirus. Mascherina che da qualche giorno è obbligatoria non solo all'interno dei locali di spazi chiusi ma anche all'aperto quando siamo tra la gente. In attesa del nuovo DPCM che fisserà misure ancora più stringenti per frenare e circoscrivere il contagio, il governo ha adottato questo provvedimento che a quanto pare è stato accolto tutto sommato positivamente dai cittadini quasi rassegnati a trascorrere ancora molti mesi con quella che diventerà una compagna di viaggio inseparabile. Certo con la mascherina. Lei è d'accordo signora? Sì sì, sono d'accordissimo. Sto aspettando l'autobus. L'autobus che fa ritardo. Qualcuno dice che magari proprio gli autobus sono i luoghi in cui magari c'è maggiore rischio. Com'è la situazione negli autobus quelli che frequenta lei? L'ospedale frequento solo. Adesso tutto bene, poi... Non c'è, non ci sono assembramenti? Non lo so, stamattina non lo so. L'altra volta sì. Signora, anche lei con la mascherina che ne pensa? È d'accordo? Sì, sono d'accordo, benissimo. Voi la indossate sempre adesso? No, veramente, anche a casa certe volte, quando viene più i miei nipoti, figli e cose. Adesso specialmente che è ricominciato peggio di prima. L'è preoccupata? Un po', perché per l'età che ho e per le patologie che ho, che sono cardiopatiche, ho paura che i più giovani mi diano, diciamo, il contagio. Mascherina non la mette? Finta. Come finta? Ce l'ho finta. Che ne pensa? Secondo lei si devono mettere o no queste mascherine? Assolutamente sì, per noi e per tutti gli altri. Ci vuole, ci vuole. Lei che pensa? Si deve mettere per forza, devono mettere per forza le mascherine, perché se no qua andiamo in grado, noi siamo ancora giovani, siamo persone che ci hanno sempre portato di amico. E poi bisogna evitare anche gli assembramenti, non stare tutti vicini. Ma noi gli assembramenti ci stanno, però siamo a distanza, ogni tanto viene qualcuno, saluta e poi se ne va. E lei invece? Che dice? Niente, non dico niente, signorino. Anche sui misteri bisognerà indossare la mascherina? No, ma se no non si può parlare, non si può salutare gli amici. Speriamo bene anche l'anno prossimo, il mistero, ma poco ci credo. Lei come la vede la situazione? Male. Come vanno gli acquisti con la mascherina? Per me non vanno bene. Perché? Eh, perché non posso respirare. Ha difficoltà? Ha difficoltà. Però lei sa che la legge dice che se lei si trova da solo può abbassarla? Sì. A porra di là delle multe? Sì. Ma io esco poco, mica mica sono uscito oggi, sono venuto a fare un servizio a Campobacco. Però un piccolo sacrificio magari per evitare, che dice lei? Ma che vuoi gli dici? Io non dico niente. A posto. A posto. A posto. A posto. Le mascherine si indossano sempre? Sì, sì. Che ne pensate? Secondo voi è giusto indossarle oppure è una cosa di cui si potrebbe fare a meno? È giusto. È giusto perché comunque serve. Sapete anche per preservare magari se avete dei genitori, dei nonni? Più che altro gli anziani, i nonni, i bisnonni. Però dite la verità, quando uscite la tenete sempre? Non sempre, sono sincera. Sapete cosa dice la legge? Quando è che si deve indossare la mascherina? In luoghi pubblici. E quando si è con persone che non sono familiari strette? Esatto. E voi lo state facendo? Sì, sì. Mi sono venduta. Ma vi pesa una grossa rinuncia? Un po' sì, c'è nel senso, comunque è una cosa nuova. Anche il trucco magari che non si vede proprio bene quando si esce il sabato sera? Anche, soprattutto. Un piccolo sacrificio. Ci vuole. Istituire il drive-in anche in Molise è la proposta della capogruppo del Partito Democratico alla Regione, Micaela Fanelli, considerata la situazione epidemiologica. Ha detto, Micaela Fanelli, è indispensabile aumentare il numero dei tamponi e di valutare la possibilità di istituire su tutto il territorio regionale i cosiddetti drive-in covid, i posti, cioè in cui i prelievi per i tamponi possono essere prelevati a pazienti che sono in automobile. Primo consiglio comunale ad Agnone per il sindaco Daniele Esaia e la neoeletta amministrazione e le sorti dell'ospedale Caracciolo tra le priorità della nuova giunta, il servizio di Barbara Fino. C'è il duro di osservare realmente la Costituzione italiana. Primo consiglio comunale di Daniele Esaia come sindaco, questa volta nella sede di Palazzo San Francesco con la sua nuova amministrazione che prende gli onori del successo elettorale ed è già all'opera con le problematiche più care agli agnonesi, sanità, trasporti e turismo. Insediata dunque la nuova giunta con Michela Cerbaso come capogruppo di maggioranza di nuovo sogno agnonese, Vincenzo Scarano per la squadra di Identità e Futuro, mentre per la compagine Esserci è stato designato Agostino Iannelli. Nominate anche le commissioni consigliari, nella prima che si interesserà di bilancio, cultura, turismo, sanità, tema caldo agli agnonesi, sono stati nominati Michela Cerbaso, Giuseppina Catauro, Mario Petrecca, Franco Paoletti e Agostino Iannelli. Nella seconda commissione, che si occuperà di lavori pubblici, ambienti, agricoltura, artigianato e commercio, sono stati nominati Franco Marco Vecchio, Pina Catauro, Mario Petrecca, Vincenzo Scarano e Agostino Iannelli. Emerso già dal primo consiglio l'interesse comune di ripristinare i servizi per la sanità pubblica e rendere l'ospedale Francesco Caracciolo un punto di riferimento per il territorio dell'Alto Molise. Il tema sanità sarà un tema centrale, come abbiamo detto, nella campagna elettorale per il bene della comunità agnonese, ma soprattutto dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese. Abbiamo già avuto un incontro con Florenzano per provvedere ad eseguire i tamponi qui ad Agnone, ma è chiaro che i problemi principali rimangono sul riconoscimento dell'ospedale San Francesco Caracciolo come ospedale di area disagiata ed è questo l'impegno che noi prendiamo e soprattutto a riempirlo dei contenuti previsti dal POS. Bisogna passare dalle parole ai fatti. Di concerto si lavorerà dunque per rendere il nosocomio efficiente e in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria. Il direttore generale Florenzano ci ha assicurato che è stata fatta la formazione al personale infermieristico del Calacciolo che provvederà all'esecuzione dei tamponi che poi saranno successivamente processati, come tutti sappiamo, nel presidio ospedaliero di Campobasso, il Cardarelli. È stato trovato il cadavere di Michele Mastro Matteo, l'uomo di Peschici scomparso dallo scorso 25 settembre in una serata che doveva trascorrere a Termoli con un amico. Il corpo era nelle campagne che circondano San Nicandro Garganico nel Foggiano. Apparentemente si apprende da fonti investigative sul cadavere non ci sarebbero segni di colpi d'arma da fuoco o tracce evidenti di una colluttazione. Nei prossimi giorni sarà compiuta l'autopsia che stabilirà le cause della morte. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. L'uomo era uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a mangiare una pizza a Termoli. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate su un amico che la sera della scomparsa era proprio con lui. Agli investigatori quest'ultimo avrebbe fornito versioni contrastanti su quanto accaduto quella sera del 25 settembre. Cambiamo argomento e parliamo ora dell'iniziativa che si è svolta ieri a Campobasso organizzata dall'Associazione Italiana Persone Down in piazza a municipio e nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. sono stati allestiti i banchetti per la raccolta fondi destinati alle attività a finanziare le attività dell'Associazione per il diritto alla cura e l'integrazione delle persone affette da sindrome di Down. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. Niente ferma un sorriso con questo slogan. L'Associazione Italiana Persone Down di Campobasso ha allestito nel capoluogo i banchetti in piazza a municipio davanti alla chiesa di San Giuseppe Artigiano per la raccolta di fondi per finanziare le attività dell'Associazione investendo sul diritto alla cura, sulla riabilitazione e sulle iniziative che consentano l'integrazione delle persone con sindrome di Down. Siamo qui per ribadire la nostra presenza sul territorio per ribadire il nostro impegno nei confronti delle persone con sindrome di Down e soprattutto quest'anno per ribadire anche il concetto di diritto alla cura. La cura è intesa non solo nel senso medico ma nella cura nei confronti delle persone che hanno bisogno di interventi abilitativi e riabilitativi. Un diritto alla cura che sia uguale dappertutto in tutte le zone del paese senza distinzione di provincia. È stato un anno difficile per tutti e ovviamente lo è stato ancora di più per le persone con disabilità e abbiamo notato, ahimè, anche questa volta un'assenza da parte di chi forse doveva ricordarsi che rimanere a casa per delle persone che hanno delle fragilità è ancora più pesante, più dolorose. L'associazione non le ha mai abbandonate gli operatori supportati dalle varie piattaforme sono sempre stati vicini con loro distanti ma uniti questo è lo slogan che ci è piaciuto ribadire anche in quella abbiamo riaperto, speriamo di poter continuare su questa strada perché le persone hanno bisogno di vicinanza non solo fisica ma soprattutto una vicinanza di intenti. Sul banchetto ci sono vari oggetti, articoli, di che cosa si tratta? Allora intanto c'è il nostro gadget che rappresenta la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down ed è la cioccolata, cioccolata solidale cioccolata biologica, cioccolata molisana poi ci sono le pillole che non sono pillole contro nessuna malattia ma sono pillole contro i pregiudizi e poi ci sono dei gadget piccoli che sono i lavori che i ragazzi fanno nel corso delle loro giornate a casa nostra Vincenzo Cimeno, 44 anni, giornalista pubblicista e il nuovo presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise è stato eletto ieri sera nel corso della riunione di insediamento del consiglio vicepresidente Cosimo Santimone segretaria Marcella Tamburello tesoriere Andrea Nasillo al vertice del collegio dei revisori dei conti c'è Francesco Bottone suo vice Valentina Cocco del consiglio direttivo fanno parte anche Pasquale Bartolomeo, Antonio Chiatto, Pino Cavuoti, Domenico Bertoni e Luigi Albiniano Sarò il presidente di tutti il commento a margine dell'elezione in particolare di coloro che non hanno voce i più indifesi, i più delusi, traditi da questo mercato il presidente che proverà a dare stimoli e slancio a una categoria in difficoltà Cimeno le congratulazioni da parte di tutta Telemolise tre gattini chiusi in un sacchetto e buttati in un giardino la richiesta di aiuto di un ragazzo è stata raccolta da Telemolise che si è messa in contatto con un medico veterinario di Termoli Francesco De Buono che ha preso in cura gratuitamente i tre gatti e ce ne parla ancora Andrea Nasillo Erano chiusi in un sacchetto, terrorizzati buttati come pattume nel giardino di un'abitazione privata si divincolavano e piangevano i tre gattini trovati qualche giorno fa da una ragazza vicino Campobasso avevano ferite agli occhi infezioni che li avrebbero condannate alla morte ma curarli richiedeva un sacrificio economico oneroso l'appello di Giuliano è stato raccolto prontamente da Telemolise la nostra emittente si è messa subito in contatto con Francesco De Buono medico veterinario dal cuore nobile un professionista serio la necessità era intervenire subito non ci ha pensato due volte e si è messo a disposizione gratuitamente grazie all'intervento del direttore di Telemolise Emanuela Petescia che io ringrazio caldamente e del dottor Francesco De Buono che si è subito attivato per aiutarci in questa situazione in quanto questi gattini sono stati presi messi all'interno di una busta e lanciati come pattume al di là di una palizzata un gesto veramente incivile in quanto la civiltà si misura anche da questi gesti la civiltà di un popolo perché un popolo che effettivamente è civile rispetta anche le altre creature e gli altri esseri viventi compresi gli animali così come in questo caso nella fattispecie dei gatti che non meritavano assolutissimamente un trattamento del genere La cura richiede da tempo le povere bestiole affette da una rinotracheite in stato avanzato con la compromissione della capacità visiva di un occhio sono state sottoposte prima di tutto a una massiccia terapia farmacologica con la speranza di evitare l'intervento di asportazione del bulbo oculare Tutto questo è scaturito da un post che io ho messo su Facebook e al quale prontamente il direttore di Telemolise ha risposto aiutandomi in questa impresa che tutto sommato inizialmente sembrava proprio disperata e impossibile perché avevo attivato una raccolta fondi però giustamente i gattini sono tre quindi effettivamente il costo era molto elevato e di conseguenza raccogliere tutti questi fondi si prospettava un'impresa abbastanza ardua però nonostante tutto questo si è avuto un lieto epilogo E' stato inaugurato a Roccamandolfi un centro di multiproiezione 2D e 3D che racconta la storia del brigantaggio per i turisti e per tutti gli appassionati di storia matesina C'era per noi Barbara Fino Roccamandolfi, piccolo centro della provincia di Sernia per le sue caratteristiche territoriali è stato interessato all'inizio dell'Ottocento dal fenomeno del brigantaggio costituendo nella storia tramandata da padre in figlio L'amministrazione comunale ha progettato dunque con un finanziamento del PIT circa sei anni fa e oggi finalmente realizzato un centro di documentazione sul brigantaggio con un sistema di proiezione in 2D e 3D inaugurato ufficialmente presso la biblioteca Scasserra al centro del paese e disponibile per i numerosi turisti che ogni anno si riversano sul territorio matesino attratti dalla natura, dall'escursionismo e dalla storia e che potranno appassionarsi alle vicende dei briganti visitando il centro dal martedì alla domenica L'amministrazione comunale circa sei, sette anni fa volle diciamo progettare e ideare un museo particolare ovvero un sistema di proiezione in 2D e 3D che raccontasse gli episodi più significativi e salienti della storia del brigantaggio della nostra comunità quindi un museo assolutamente originale un museo che merita di essere visitato Episodi di rivolte sociali, brigantaggio videro coinvolti alcuni cittadini di Rocca già alla fine del Settecento e con la storia del brigantaggio in 2D e 3D a Rocca, Mandolfi termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte ringraziandovi